Musica Beh a tutti ragazzi io sono Valle03 come avete potuto vedere dall'inizio Ci sta una nuova canzone che uscirà il 5 ottobre appunto su Spotify a mezzanotte E prodotta da comunque Joseph, mixata da Joseph e si chiama i2.0 Quindi ragazzi non solo su Spotify ma anche su altri digital store Adesso siamo con Mega Pimple Popperi il gioco più discusso del gioco più discusso del mondo Lasciate like, arriviamo a 7 like e guardiamo le recensioni appunto di questo gioco Una stella di recensioni sono veramente tantissime Poi ci sono le recensioni da 5 stelle, le recensioni da 2, 3, 4 stelle che sono veramente poche Come possiamo vedere ci sono molte recensioni da una stella Ci sono anche le recensioni da 5 stelle, da 3 e da 2 stelle ma sono rare E la maggior parte sicuramente la che il gioco fa schifo al cazzo Quindi adesso andiamo a installare il gioco, bella Ah ragazzi tra l'altro è di 70 Mega Cioè il gioco è pure grande Ok ragazzi siamo montati nel gioco To continue playing, you need to agree our terms Ah boh si accettiamo tutto ragazzi, non ce ne frega un cazzo Adesso abbassiamo la voce E parte anche la musichetta del cazzo Allora andiamo a giocare a questo gioco di merda Anzi, vuol dire di abbassare la voce proprio al minimo Perché è un gioco di merda Vabbè si, la prima volta sti cazzo non me ne frega niente Allora Andiamo a schiacciare sta cacata Andiamo a schiacciare No Però forse Schiaccia un po' meglio ma non schiaccia un cazzo No ragazzi io non capisco Cosa stracazzo bisogna fare Giochi di merda Ma mi sto sottoponendo a una tortura Proverà sicuramente dolore sta tizia Ragazzi Non funziona Non lo so Non lo so ragazzi Non si fa un cazzo Non schiaccia nemmeno Ragazzi io Io già vi dico Già mi arrendo Già mi arrendo Anzi Sai che vi dico ragazzi Io mi arrendo Mi arrendo Perché è uguale a quello di Bri Cioè la stessa cosa Non si schiaccia un cazzo Forse la grafica è anche un po' migliore Però Non è che ci sia questa grande grafica Ragazzi Io direi di arrendermi Di mettere una stella E vi chiedo nei commenti Se è possibile Facciamo così Nei commenti Mi consigliate un gioco Da portare Un gioco di merda Da portare E io lo porto Ok Quindi la prossima volta Facciamo così Andiamo a 7 like E Nei commenti Adesso mi dovete dire Un gioco Appunto A vostra A vostro piacere Dovete scrivere Già la recensione Perché questo gioco È una merda E basta Innanzitutto Andiamo a disinstallare L'applicazione Adesso ragazzi Va a scrivere la recensione Ok ragazzi Recensione breve Recensione facile facile Fa cagare Non schiaccia un cazzo Direttamente così E pubblichiamo Ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi A questo canale E Bella